Da area di crisi industriale a nuova area di sviluppo. È l'ambizioso obiettivo che si è dato il GOTA dell'industria torinese nel giorno in cui sono partiti i bandi da 50 milioni per il settore automotive e aerospazio. La Camera di Commercio vuole fare in modo che assolutamente queste risorse vengano utilizzate e apriremo uno sportello dedicato alle aziende per dare il massimo supporto. Per l'assessore regionale Andrea Tronzano si tratta di un banco di prova in attesa del PNRR europeo. Le aziende hanno tempo fino al 20 settembre per partecipare al bando. L'investimento iniziale è di un milione, una cifra che rischia di lasciare fuori tante piccole e medie imprese. Cerchiamo di fare in modo che questi vengano ben utilizzati per creare sistema e poi per un effetto anche domino questi 50 milioni diventino molti di più perché poi si crea valore e quindi l'effetto sul territorio può essere sicuramente molto più impattante. In una regione, il Piemonte, dove è inattivo un giovane su cinque, l'Unione Industriale spera che questi fondi diano nuova linfa al mercato del lavoro. E poi ha lo scopo di favorire investimenti produttivi nella nostra area, in particolare per un settore che in questo momento attraversa una fase complessa. Lo scopo è come sempre quello di mantenere e possibilmente favorire l'occupazione.